Sono Melissa, veniamo da Novoli, io sono la moglie del presidente dell'assiede di Novoli Calcio, veniamo qui per il secondo anno consecutivo e visto che lo scorso anno ci siamo trovati benissimo, i ragazzi hanno fatto una bellissima esperienza, eravamo entusiasti di esserci nuovamente. Siamo venuti qui con tre categorie, allievi e pulcini 2007 e 2009, e speriamo che i bambini si divertono, questo è l'importante per noi. Noi siamo molto contenti di essere qui, visto che comunque la manifestazione è ben organizzata, le strutture sono fantastiche, è un bel posto.